Salve amici del Centrometro Italiano, ad eccezione di qualche breve interruzione dall'alta pressione potrebbe dominare fino al termine del mese. L'afflusso di corrente fredde nel corso del prossimo weekend porterà un calo termico su tutta l'Italia, con temperature al di sotto delle medie. Nella giornata di domenica tempo instabile soprattutto al sud, con neve sull'Appennino fin verso i 700-900 metri. Situazione sinottica durante la prossima settimana che vedrà protagonista un robusto campo di alta pressione sull'Europa orientale. Questo porterà tempo asciutto anche in Italia, con clima però ancora piuttosto freddo. Anticiclone che entro l'ultimo weekend di marzo tornerà a scendere verso il Mediterraneo portando tempo stabile e un rialzo delle temperature. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.